Penso che possiamo aspettarci di vedere una squadra compatta, un gruppo coeso, un gruppo formato da ragazzi molto seri, ho già visto in questi due giorni che è un gruppo che ha dei valori dietro che si percepiscono subito. Già partire con l'80% della rosa completa penso che sia un vantaggio perché non tutte le realtà possono permetterselo e quindi sono molto soddisfatto. Bisogna dimenticare in fretta quello che è stato l'anno scorso perché non possiamo più vivere di quello, dobbiamo essere bravi ad aiutare i nuovi ragazzi che sono arrivati a integrarsi alla grande e a creare il gruppo il più in fretta possibile. Intanto bisogna iniziare a lavorare perché ci dobbiamo conoscere nel prima possibile perché è una categoria per alcuni nuova, il Rimini ci torna dopo qualche anno, bisogna sistemarsi bene per affrontare al meglio questa categoria e poi dopo a strada facendo vedremo cosa possiamo fare. Sono contentissimo di portare a livello soprattutto di esperienza quel tassello in più magari per dare anche un aiuto a quelli più giovani e cercare comunque di fare un campionato di livello perché siamo qui apposta. Vengo dall'Ancona, è capitolo passato, adesso penso a Rimini, ancora Biancorossi, cerchiamo di fare il meglio possibile in una piazza importante. Ai tifosi prometto che ci metteremo sempre il cuore, daremo sempre tutto per la maglia e cercheremo di arrivare più in alto possibile. Mi auguro di portare esperienza e non solo, anche le mie caratteristiche e le mie qualità per la squadra, per il campionato e per fare bene. Con la nuova società comunque c'è grande entusiasmo, grande ambizione e speriamo di poter fare un bel campionato. Sarà un anno diverso rispetto all'anno scorso ma penso più bello e più affascinante per tutti. Per ora è una buona squadra, sicuramente manca ancora qualcosa, però per ora ho buoni sentimenti. Di sicuro verrà fuori un ottimo lavoro, Andrea Maniero non si è smentito anche quest'anno e ha costruito un'ottima squadra. L'obiettivo per questa stagione? Una salvezza tranquilla o qualcosa di più? Parte sinistra classifica, magari anche alta classifica.